Ciao, sono Marco, gestisco l'Hotel della Nazione insieme a mia mamma da 4 anni dopo una gestione di un'altra piccola realtà. Prima di usare l'Hotel CC fortunatamente sono cresciuto con i corsi dell'Associazione Albergatori, in particolare anche con l'aiuto di Marco Volpe, quindi mi sono subito arrangiato facendomi aiutare con i preventivi standard e con già la mail di Gmail, quindi era molto più semplificato rispetto a gestire il tutto con altri metodi che erano già obsoleti nel 2011 quando ho cominciato. L'Hotel CC mi ha semplificato soprattutto l'invio di preventivi e il trattare segmenti degli ospiti, la famiglia, la coppia, e quindi ci ha semplificato l'invio dei preventivi in pochi secondi e il margine di errore è molto diminuito rispetto ad altri, per non parlare poi delle azioni programmate che ci consentono di non avere continui calendari con Remember, diciamo di inviare un altro preventivo, di chiedere se è stato letto, se non è stato letto. Indubbiamente è un passo avanti, visto anche gli anni in cui ci troviamo, in cui l'automazione è tutto ormai, si sente l'esigenza proprio di programmi come questo, che sono in continua evoluzione, che fortunatamente ci fanno vivere ancora meglio sia la nostra vita che la realtà che poi proponiamo agli ospiti. Mi sento di consigliare l'Hotel CC ai miei colleghi perché sicuramente è un programma che ci aiuta ad avere più tempo per stare con i nostri ospiti, avere meno margini di errore e comunque avere l'accortezza che poi noi tutti gestori soprattutto della riviera Romagnola cerchiamo di avere nei confronti degli ospiti, e quindi sarebbe un peccato dover stare con la testa bassa a cercare di organizzare al meglio dei preventivi tramite la semplice mail e non dedicarci più tempo a chi passa di fronte a noi anche solo per salutarli e fare un sorriso.